Sono passate da poco le 7.30 di lunedì 19 settembre, bentrovati, ben ritrovati, comincia una nuova stagione di Buongiorno Regione, la trasmissione di approfondimento della mattina della nostra testata, della TGR, la nostra trasmissione sul territorio. A proposito di territorio, come facciamo di consueto? Cominciamo con una webcam, con una bella immagine che ci arriva da Dervio, siamo in provincia di Lecco, questo ovviamente è il ramo di Lecco del lago di Como, lago in primo piano, qualche nuvola in cielo. E a proposito di nuvole, le previsioni del tempo non possono mancare in apertura di trasmissione, stamattina è venuto a trovarci in studio il nostro esperto dell'ARPA Lorenzo Craveri, buongiorno. Buongiorno, grazie Camilla, buongiorno a tutti. Tempo nel complesso stabile oggi e domani, grazie al graduale allontanamento della depressione che ci ha interessato nei giorni scorsi. In questo momento il cielo su Lombardia è variabile, ma con decise belle schiarite sulla pianura e qualche nuvola che si attarda sulle Alpi e sulle Prealpi. Le temperature al piano in questo momento sono comprese tra 14 e 17 gradi, quindi sostanzialmente nella norma per il periodo, ma per ulteriori aggiornamenti vi do appuntamento a tra poco. Grazie. E allora più tardi...